next tv la tv vista a teatro è il progetto che l'associazione amo cosenza e il teatro dell'acquario hanno preparato per offrire i giovani talenti cosentini un'occasione unica per affacciarsi nel mondo dello spettacolo non solo nel ruolo più facilmente intuibile della partecipazione ad una trasmissione televisiva ma soprattutto in quello del lungo lavoro fatto di professionisti che spesso rimangono dietro le quinte ma che rappresentano l'anima la testa e le gambe sulle quali si costruisce un prodotto di successo per indagare a fondo i meccanismi e mestieri che ruotano attorno alla macchina televisiva il fondatore di amo cosenza lucio presta manager di successo delle star televisive insieme al direttore del centro ratte teatro dell'acquario antonello antonante proporrà un corso di alta formazione totalmente gratuito rivolto a 160 ragazzi dai 17 ai 30 anni il primo illustre protagonista degli incontri sarà paolo bonolis che terrà la sua lezione il 6 febbraio prossimo al teatro dell'acquario a partire dalle ore 14 il presentatore televisivo reduce dal suo ultimo successo su canale 5d le iene presentano scherzi a parte condividerà la sua esperienza professionale soddisferà la curiosità dei corsisti nel corso di un'intensa giornata svelerà i segreti di un mondo tutto da scoprire e lontano da quell'immaginario collettivo per chi vuole lavorare in televisione il progetto next tv grazie ai docenti altamente qualificati servirà a capire come si arriva ad essere considerati bravi realizzatori di prodotti televisivi cosa c'è dietro la magia della televisione quanto lavoro e fatica ci vuole per realizzare un prodotto televisivo e quali sono le figure principali che girano intorno al mondo incantato della finzione il progetto prevede in tutto 15 incontri con grandi nomi del settore che saranno svelati di volta in volta personaggi dello spettacolo ma anche a registi e autori i seminari rigorosamente numero chiuso mirano ad informare sulle figure professionali che possano rispondere alle attuali esigenze delle imprese televisive in un mercato in rapida trasformazione segnato dai processi di digitalizzazione e di convergenza